Il vuoto intorno. Ci sono persone che hanno da lamentarsi su tutto e di tutti e che per tale ragione, anziché suscitare compassione per la loro mente in stato di evidente frustrazione cronica, suscitano repulsione e allontanamento. Per quale motivo? Perché è come se camminassero con le scarpe piene di fango nella testa di chi le ascolta. È come se entrassero nella mente delle persone con i sacchi dell'immondizia. È come se, anziché presentarsi ad una festa di compleanno con un mazzo di fiori o una scatola di cioccolatini, si presentassero con un cestino di panni sporchi da lavare e te li lasciassero lì, pretendendo di averli ripuliti e stirati a lucido. Sono le tipiche persone che quando le saluti, oh buongiorno, come stai? Felice di vederti, ma che bel sole oggi, vero? Ti senti rispondere, ma domani però piove. Così facendo creano il vuoto intorno a sé. Tratto dal corso Counseling Filosofico. Diventa Consulente Filosofico. Ti aspetto, bye bye! Ciao!